come faccio a mantenere il focus allora qua andiamo un po sul tecnico andiamo sul pratico perché poi per mantenere il focus dobbiamo renderci conto che le piantine per vivere hanno bisogno di due cose non so chi di voi abbia il pollice verde le piantine hanno bisogno di acqua e di luce perché la luce per le piantine si significa fotosintesi clorofiliana e quindi loro riescono a creare il loro processo di nutrienti di nutrizione anche i collaboratori hanno bisogno di due cose hanno bisogno di risultati e l'abbiamo detto prima perché se non hanno i risultati prima o poi muoiono è ovvio c'è un sacco di gente che è appassionata di network che gli piace però non avendo mai avuto risultati hanno smesso di farlo forse non l'ha mai fatto e poi le persone hanno bisogno di relazione cioè le persone hanno bisogno delle persone scrivetelo per favore ed è il motivo per cui voi guadagnate delle provvigioni per quale motivo una realtà così importante che potrebbe permettersi di fare tutte le campagne pubblicitarie del mondo di mettere in piedi il proprio marketplace perché vi paga e anche lauta mente per creare una rete di ambassador di introduce ad influencer che veicolano dei prodotti perché le persone hanno bisogno delle persone e così come noi siamo in grado di spostare degli acquisti di prodotto siamo in grado di spostare il focus delle persone questo è il motivo per cui prendiamo delle provvigioni e le prenderemo per sempre perché scrivetelo più si va verso l'automazione più noi e l'abbiamo visto col digitale più noi velocizziamo digitalizziamo tutta una serie di attività più abbiamo bisogno di contatto più abbiamo bisogno di qualcuno con cui dialogare con cui creare empatia con cui confrontarsi con cui piangere con cui gioire le persone ha bisogno delle persone noi siamo animali relazionali l'essere umano dall'antichità si si sviluppa in aggregazioni prima in piccole comunità poi nelle polis non nessuno scrivetelo la vita non è uno sport individuale il network non è uno sport individuale noi abbiamo bisogno degli altri ed è questo che può mantenere le persone sul sul pezzo i risultati degli altri anche quando tu non ce li hai gli esempi degli altri quando tu non ce li hai e qui secondo me è fondamentale che voi nel vostro team sviluppiate tre cose importantissime la prima cosa che gli eventi che ci sono parlo di quelli aziendali o di quelli di gruppo diventano sacri io insegno che ogni evento è un censimento cioè se il vostro gruppo sta crescendo non lo vedete dalla dashboard dal sito dai volumi quello è una fotografia finta è come quando fatto l'estratto conto ma non hanno ancora fatto gli addebiti e gli accrediti non è l'estratto conto reale la fotografia vera è quante persone agli eventi se stasera qua arriviamo in 50 fra due mesi decidiamo di rifarlo siamo in 100 vuol dire che il gruppo cresce siamo in 30 vuol dire che il gruppo cala sabato domenica c'è l'evento aziendale quanti eravamo l'ultima volta del mio team 7 se stavolta siamo in 10 stiamo crescendo siamo in 5 stiamo calando quello è il dato vero perché scrivetelo se vuoi creare focus nel tuo team tu devi lavorare per gli eventi tu devi portare le persone agli eventi perché se tu lavori per gli eventi gli eventi lavorano per te tu lavori per gli eventi quindi porti le persone lì poi loro torna a casa entusiaste cariche si ricrea anche 15 giorni si crea tutto un flusso che loro torna a avere un altro tipo di energia prima cosa che devi fare utilizzarli utilizzare gli eventi seconda cosa che devi fare creare dei micro eventi dei caminetti tra virgolette cioè col tuo team le tue tre persone le cinque le sette con con frequenza adesso mi verrebbe da dire se ve lo consente la vicinanza vi prego chiudete la zoom e andate al bar perché un'ora insieme davanti al caffè vale cinque ore di zoom quando tu una persona l'abbracci la vedi adesso grazie dio insomma abbiamo alle spalle sta situazione ve lo dico ho avuto il covi dall avuto mio papà non voglio toccare il tema covi i dati sono lì questa cosa dal puntista sanitario mano a mano sta scemando non è scemata dal puntista della paura c'è il terrore persone sono spaventate e quindi noi dobbiamo invece ricrearla questa relazione umana e le persone hanno bisogno di questo per cui è chiaro che se il tuo collaboratore via a 400 chilometri da te ringraziamo zoom ci mancherebbe ma se tu hai delle persone vicine incontrale se avete anche dei collaboratori a distanza di un'ora non tutti i giorni però adesso nel prossimo mese mettete in calendario un tour in cui andate a pranzo da loro in cui andate a prendersi da andiamo fare un cappuccino insieme le andate a prendere a casa perché quella roba lì crea relazione le rimettete sul pezzo fa molto di più quella cosa di chissà quanti appuntamenti virtuali stasera noi abbiamo scambiato egregiamente ma vi immaginate la potenza di far questo e di vederci la terza cosa che dobbiamo e possiamo fare è il ctq il contatto telefonico quotidiano per mantenerli in vite sul pezzo per creare relazione cos'è il ctq contatto telefonico che non vuol dire via chat che non vuol dire via audio vuol dire telefonico quotidiano e quindi vuol dire questo oggettivo dice che dobbiamo farlo ogni quanto almeno una volta al giorno perché la roba incredibile che quando la gente è in pista non c'è bisogno che ti dici di chiamarti ti chiami nove volte al giorno 20 volte al giorno 70 volte al giorno quando tu sei sul pezzo ti senti continuamente invece quando le persone rallentano un po lo vedi da questo dalla diminuzione della frequenza del contatto allora questo ci deve aiutare a capire che proprio quando noi non li sentiamo c'è bisogno che li sentiamo se vogliamo tenerli vivi se vogliamo aumentare il focus se voglio tenere alto il focus devo aumentare il contatto quindi sono io che chiamo però chiamo non messaggio non audio ti chiamo tre minuti al giorno perché ti chiamo perché mi basta chiederti come stai la prima cosa che c'è da fare ogni volta che chiamate non è quanti colloqui fatto quanti scritti quanti punti quanti fatturato no la prima domanda è come stai e a volte la domanda è solo come stai perché magari di gioco resto di merda sono mia mamma col covide e c'è mio figlio con la diarrea guarda che è casa ti abbraccio sentiamo quando puoi se sei bisogno sono qua finito perché ci sono anche quei momenti lì e allora inutile che parli di colloqui di appuntamenti di fatturati ma è fondamentale che che ci sia questo contatto perché le persone muoiono non solo perché hanno preso una botta nei denti ma perché hanno preso una botta nei denti e non è arrivato il pronto soccorso l'ambulanza subito quella botta nei denti se non ti sentono per due tre giorni quella ferita diventa mortale per loro loro vanno a letto con la botta nei denti iniziano a mettersi in discussione già hanno le loro pugnette e si convincono che devono lasciar stare quando tu chiami è troppo tardi se invece loro hanno preso una botta nei denti tu dopo tre ore lo chiami e gli chiedi o le chiedi come stai e lei di solito ti dice bene 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 un cazzo tu lo senti su dice bene bene ed è sfuggente cosa è successo dai raccontami no no niente no 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 niente vuol dire cosa hai fatto dai raccontami chi è che ti ha sfanculato no ma sai quel mio cugino ok è venuto a farmi vedere che tre aziende di network che hanno preso la multa ok dai raccontami allora butta fuori perché ogni impressione senza espressione crea depressione quando le persone hanno un'emozione un'impressione la tengono dentro questa roba lavora se invece la buttano fuori ed ecco perché sentirli tutti i giorni ed ecco perché se voi li sentite tutti i giorni loro cosa faranno poi con i loro moltiplicheranno questa abitudine le persone non si sentiranno abbandonate poi solo non vuol farci sentire pace amen ciao ci salutiamo ma se noi lavoriamo insieme il minimo è sentirci tutti i giorni e questo vi fa sentire lo stato della truppa questo vi fa sentire che che clima c'è perché scrivetelo noi possiamo anche accettare una crisi di risultati ma non dobbiamo mai accettare una crisi di morale una crisi di atteggiamento se c'è una crisi di morale dobbiamo intervenire perché è il morale che fa i risultati chiaro che il risultato fa il morale ma sono capaci tutti grazie al cazzo il nostro lavoro è lì quando c'è da intervenire da sostenere da far da far tirar fuori la grinta che non hanno questo è il nostro mestiere senza di noi durerebbero un mese con noi durano tre mesi cavoli quei due mesi in più il motivo per cui noi prendiamo le provvigioni senza di noi duravano in 10 con noi durano in 30 quei 20 in più è il motivo per cui prendiamo le provvigioni sono non è network marketing sono è affiliate marketing